Iniziamo a vedere il livello, allora... Ok, sembrerebbe che bisogna prima caricare i file, quindi... Ok, sta processando le informazioni. Sta caricando le informazioni, sembra che ci voglia un po' di tempo. Ok, sembra che abbia accelerato adesso. Aspettiamo che si carichi e poi vediamo di che si tratta sto livello. Che sarò sincero, mi sono già rotto le scatole di aspettare. Ci vuole veramente così tanto per caricare un file? Presumo allora sarà tipo il livello più importante della storia. Dai, accelera! Secondo me sta scaricando tutti i dati che ci sono sui computer della NASA, perché non è possibile. Attenzione, 96... 96 manca poco, signori. Manca poco, poi finalmente possiamo leggere questo livello lunghissimo. Che cos'è? Connessione internet interrotta? Cancellando i login? Dopo... Ma... Mancava un punto percentuale, brutti... Queste... Perdicompare un pc Grazie a tutti.